L'argomento cardine di questo incontro è stimolare la Regione Campania a realizzare definitivamente, perché sono molti anni che ormai se ne parla, i piani paesaggistici. Abbiamo bisogno di avere le idee chiare e soprattutto nella nostra città abbiamo bisogno di sbloccare questa rigidità eccessiva che il PUT, il piano urbanistico territoriale regionale, ha determinato nel nostro territorio, dove ai sacrosanti principi della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, che sono principi peraltro costituzionalmente garantiti, ma che a noi stanno molto al cuore perché noi abbiamo delle belle colline, abbiamo dei bei paesaggi, però la tutela del territorio, la salvaguardia del territorio non può significare bloccare lo sviluppo del territorio. Allora un nuovo piano paesaggistico che equilibri in maniera sostanziale quelli che sono valori, ripeto, supremi che io considero itali della tutela e della salvaguardia del patrimonio paesaggistico e del territorio, con le necessità di una città come la nostra, ma di territori anche a noi vicini che hanno lo stesso problema, di creare le condizioni di sviluppo e di lavoro per i tecnici, per le imprese che certamente non possono restare prigionieri di strumenti normativi troppo rigidi. Oggi quello che parte da Cava dei Tirreni è un messaggio che vale per tutta la regione campania. In tutti questi anni, con il PUT che oramai è in vigore da troppo tempo e che ha finito per avere un perimetro di competenza territoriale troppo ampio, un ambito territoriale di riferimento troppo ampio, in cui sono state racchiuse aree non omogenee ma con profonde diversità dal punto di vista geografico, dal punto di vista delle caratteristiche dello stato dei luoghi, dal punto di vista anche delle dinamiche, dei processi economici, perché ci sono zone come i centri costieri della penisola amalfitana e sorrentina che hanno un'economia tutta legata al turismo. Ci sono altre realtà come Cava che invece hanno una dinamica economica profondamente diversa e naturalmente anche la realtà di una città come Cava è profondamente diversa dalla dimensione dei problemi di centri costieri come sono quelli del contesto amalfitana e sorrentino. Ecco perché si pone la necessità di intervenire in questa direzione facendo camminare di pari passo la salvaguardia e la protezione, la difesa e la garanzia del paesaggio e dell'ambiente innescando però processi virtuosi, processi equilibrati, rispettosi dell'ambiente e del paesaggio ma che vadano nella direzione della necessaria trasformazione del territorio, di cui processi economici e produttivi che servono a dare respiro alla condizione di questi territori che offrono spazi occupazionali e che quindi danno risorse e prospettive per rimanere a vivere nelle nostre comunità agli uomini, alle donne e soprattutto ai giovani di questa terra.